Buon pomeriggio a chi ci ascolta tramite il sito Sport Parma e sul canale 636 del digitale terrestre ovvero su Sport Emilia. Siamo a Iolo, Prato, lo stadio Cersoni. Oggi si decide chi tra Crociati e l'Aquila rimarrà in eccellenza nella prossima stagione. È lo quale delle due squadre dovrà arrendersi all'altra. Fu 1-1 in campionato, vittoria dell'Aquila al Fattori e vittoria sabato scorso al Nando Capra di Noceto per i Crociati. Siamo già in possesso delle formazioni. Intanto abbiamo quella dei Crociati che gioca con Farolini Estremo, confermata la linea dei tre quarti con Alberghini, Carriziello, Leali, Kessel secondo centro, Ennaur primo centro, la mediana Zucconi, Violi. In terza linea Marazzi, Sciacca e Dell'Acqua, in seconda Capitano Mandelli e Amenta. In prima linea Negrotto, Manghi e Sing. Dunque rispetto al 15 iniziale di sabato scorso c'è solamente un cambio, vale a dire Sing che torna a titolare e Ferrari in panchina. Non c'è Bordone a bordo campo in quanto come sapete è arrivata per lui la squalifica. L'Aquila apporta qualche cambio invece, rientra il capitano Di Massimo e si schiera al centro, l'estremo è Matteo Falsaperla, alle ali abbiamo Robinson e Paolucci, i centri sono appunto Di Massimo e Antonelli. La mediana è composta da Lorenzetti e Calori di Vignale. In terza linea Tarner, Zaffiri e Di Cicco, in seconda Cialone e Wilson, prima linea Caffaro, Subrizi e Milani. In panchina per i crociati abbiamo Ghegan, Silvestri, Ferrari, Pedrazzani, Rimpelli, Magri, Casalini e Ferrini. Per quanto riguarda l'Aquila, Cocchiaro, Bordonaro, Breglia, Fiore, Santa Vicca, Luca Falsaperla, Lofrese e Palmisano. Arbitra l'incontro il signor Raffalzone di Padova. Molti tifosi aquilani giunti qui allo stadio Cersoni, due pullman di cui uno doppio, più varie auto private. Anche i crociati sono scesi con diverse auto private e un pullman. Campeggiano come il Nando Capra due strissioni, ciao Giuseppe e ciao Pietro, in ricordo di due figure di alto spessore della storia parmigiana come Pietro Barilla e Giuseppe Verdi. Qui a fianco a me un commentatore tecnico di eccezione, gioca in casa, almeno fino a quest'estate, vale a dire Filippo Fratico, quale abbiamo già condiviso esperienze in passato. A lui di decifrare un po' questo incontro, è uno spareggio in campo neutro, quindi si riequilibrano un po' le percentuali dell'una e dell'altra squadra, anche se a vedere la partita di sabato scorso i crociati sembrerebbero leggermente favoriti. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sono d'accordo con te Paolo, la partita di sabato ci ha detto che i crociati hanno probabilmente più voglia di giocare, sembrano arrivati a questo finale di stagione anche con più benzina. Non dimentichiamoci che vengono anche da una striscia positiva di tre vittorie consecutive e questo a livello mentale può voler avere tanto. È una partita comunque dal pronostico molto molto chiuso, c'è tanto in paglio, è un risultato importantissimo per due squadre che a livello di storia sono una all'opposto dell'altra. La grandissima tradizione dell'Aquila contro la giovane storia dei crociati che sono a rappresentare un territorio, quello di Parma e provincia, con un progetto molto interessante che è arrivato già a una prova molto molto importante della sua giovane storia. Si alza il tifo, l'Aquila, l'Aquila, le due squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. Ecco, l'ultima cosa che chiede a Pippo prima dell'inizio è una squadra, quella dei crociati, è stata ripetuta più volte dall'età media molto bassa, molti giocatori che tu conosci per aver visto da vicino in quel dinoceto e comunque una bella impresa comunque quella di questo campionato, di aver raggiunto questa ulteriore occasione per salvarsi. Sì, ripeto, complimenti alla società tutta, in primis a Massimo Giovanelli che con grande dignità e coraggio ha portato avanti questo progetto puntando su tanti ragazzi che hanno iniziato a giocare a rugby con me. Sono anche un po' emozionato insomma a vederli in campo a giocarsi così tanto ma direi che sono pronti. Ho parlato con alcuni di loro, gli ho detto che oggi è l'occasione di essere diventati grandi, quindi insomma in bocca al lupo comunque a tutte e due le squadre e che vinca il migliore. Le due squadre intanto i 2.15 si stanno schierando, tira un discreto vento qua a Prato ma è abbastanza normale, una zona piuttosto ventosa. Il calcio d'inizio sarà per la formazione crociata con Jacopo Zucconi pronto, una squadra con la classica divisa crociata e l'Aquila ovviamente in nero e verde con il cuore. Parte la presa faticosa, c'è un avanti, un vantaggio subito per i crociati ma il pallone c'è un vantaggio non acquisito, attenzione perché c'è già un minimo di nermosismo tra Cialone e Sciacca, la posta in paglio è alta, c'è subito qualche scambio di opinione dopo pochissimi secondi. L'in avanti commesso da Wilson sul calcio di avvio, poi il pallone è perso da Amenta, riconquistato dai neroverdi ma il vantaggio chiaramente non è acquisito da parte dei crociati, intanto Falzone va subito a parlare con i due capitani Mandelli e Di Massimo per dire insomma che cominciamo a stare calmi altrimenti qua prima che arrivi l'ottantesimo. Mischia dunque con prima introduzione a favore di Marcello Violi. Siamo nella tre quarti ovviamente Aquilana e vedremo questo primo importante segnale che arriva dalla mischia chiusa. Il pallone è proprio in questa in copertura ma vediamo il pallone introdotto spinge, la mischia va leggermente di lato, il pallone non esce, Marazzi prova a sgusciare ma è braccato, va a terra, il pallone è preso ancora da Mandelli che prova lì vicino al punto, pallone che esce ancora con un attimo di fatica, Violi per Zucconi, Zucconi per Kessel, Kessel placcato, perde un po' di metri la formazione ducale ma guadagna una punizione per un affossamento, un ceiling off, si buttano oltre i giocatori dell'Aquila e dunque dopo tre minuti c'è la prima occasione per marcare credo perché credo che Mandelli indicherà i pali, la posizione così è, la posizione è abbastanza favorevole, siamo un 35 metri circa diciamo in posizione leggermente defilata e Marcello Violi sta per preparare la piazzola mentre si fanno decisamente sentire i sostenitori Aquilani ma che ovviamente credo sicuramente nel momento in cui Violi andrà per la rincorsa ha posizionato l'ovale sul T-Ball, sul T-Kicking T ecco che Violi procede, il vento spira in disiezione contraria alla traiettoria del pallone e anche in diagonale quindi non è semplicissimo per Violi, la sua traiettoria parte e centra i pali, uno su uno dunque per Marcello Violi, 3-0 per i crociati, Pippo subito un piccolo accenno di nervosismo ma insomma chiaramente la posta in palio è alta. Sì logico che insomma entrambe le squadre ci tengano a far vedere che non sono venute qua per perdere, mi è piaciuta comunque la reazione dei ragazzi nocetani che insomma hanno fatto vedere che venneranno cara la pelle e bellissimo anche il calcio di Marcello Violi che era veramente molto molto difficile con il vento contrario. Crociati ancora con possesso di palla a menta, siamo ancora però nella metà campo Ducale, Zucconi va al calcio laterale, deve rimbalzare in campo, rimbalzi in campo, un bel calcio questo di Jacopo Zucconi che guadagna parecchio terreno, era poco al di fuori della linea dei 10 metri in territorio Ducale, siamo a 4-5 metri dalla linea dei 22 della formazione aquilana, sarà Subrizzi il talonatore aquilano a effettuare il lancio. Schieramento non completo, vediamo va in centro tusce preso da Cialone, sì Cialone lui, poi spinge la molle, guadagna un qualche metro, 2-3 però non di più, si ferma, indica Falzone che si è fermato una volta, al prossimo deve usare il pallone però avanza ancora, siamo sulla linea dei 10 metri, ora però è quasi terminato l'avanzamento, va col calcetto dalla base Callori, va bene alla presa Farolini nella tre quarti Ducale, placato un po' alto, anzi decisamente alto da parte di Robinson che già all'andata, anzi al ritorno a Noceto, si è reso protagonista nei minuti finali di un placaggio alto abbastanza pericoloso nei confronti di Farolini, fu richiamato dall'arbitro Damasco, non subì il giallo, questa volta è punizione, in questa occasione il placaggio non era particolarmente pericoloso ma comunque era alto, Farolini va alla punizione, in tusce si torna nella metà campo della formazione aquilana e la tusce sarà per il lancio di Chico Manghi, si va a schierare, è già schierata la formazione aquilana mentre procede in questo momento quella crociata, schieramento completo, manca il pallone però che è arrivato dalle parti di Kessel, quello calciato in tusce è finito in strada e dunque Manghi, Mandelli chiama lo schema, parte guadagnato da Marazzi, poi pallone aperto su Zucconi e Kessel il gioco stretto con Ennaur che va a terra, placato, poi Violi vive abbastanza velocemente il pallone, sciacca, ancora a terra, si gioca vicino al punto, pallone ancora fuori Zucconi con Sing che prova a penetrare ma è placato, si guadagna comunque un po' di terreno, ancora pallone che stanzia vicino al punto d'incontro, siamo sempre nella tre quarti, Aquilana, Aquila che guadagna una punizione per un tenuto, pallone che non è uscito da parte di Sarano Negrotto con il sostegno di Dell'Acqua, Falzone dice che non ha rilasciato il pallone dunque potrà in questo caso la giocatore Aquilano, Paolucci, trovare la tusce il più lontano possibile, anzi si tratta di Callori, Callori di Vignale, il giocatore che ha con un passato proprio da queste parti il calcio in tusce è sulla linea dei 10 metri in territorio Ducale, ricordiamo sempre il punteggio di 3 a 0 in favore della funzione crociata in virtù del piazzato realizzato da Marcello Violi dopo 4 minuti, in questo momento siamo al nono, tusce ancora da effettuarsi va a Subrizzi, pallone preso e prova ancora a organizzare la MOL, la formazione Aquilana difende per il momento bene il pack crociato, non si muove la formazione Aquilana anzi che in questo momento perde terreno però lo sfaldamento consente a un giocatore Aquilano di Cicco di penetrare, poi pallone aperto con l'Aquila che poi non riesce a trasmettere bene il pallone siamo sempre nella tre quarti dei crociati, il terreno sta alzando un po' di polvere con l'aiuto del vento, ancora l'Aquila con Callori che prova a sgusciare ma la guardia crociata fa un buon placcaggio, il gioco è lento, la palla è lenta, Sciacca prova di intervenire rallentato il pallone che non esce ancora dal punto di incontro il pallone è ancora dentro, vediamo Callori, si giocherà probabilmente lì vicino dal lato chiuso, qui sotto la tribuna da cui vi stiamo parlando, non fa avanzamento l'Aquila, ci prova ancora Zaffiri, lì vicino riesce a rompere un primo placcaggio, poi va a terra, credo ci sia un avanti ed è così, non c'è vantaggio, ancora qualche parola tra Mandelli e Tarner, il numero 8 della formazione Aquilana, ancora un gioco Pippo che non è decollato, prova più ad aprire il pallone i crociati, l'Aquila ha qualche problema in più come già si aveva evidenziato alla partita di Noceto Sì sì, decisamente più in palli i crociati che hanno condotto la partita fino a qui, per questi ultimi due minuti in cui l'Aquila ha avuto il pallone ha dimostrato insomma che ha poche idee, molto confuse, non spostano la palla, si affidano a questi piccoli pick and go, complice probabilmente anche una mediana che non sta dando ritmo e quindi insomma potrebbe anche essere un'ordine di scuderia quello di non muovere troppo il pallone, però decisamente meglio i crociati Crociati che hanno guadagnato ora una punizione perché sull'ordinata la prima linea della formazione Aquilana è andata sotto praticamente quindi un afforzamento volontario, ora Falzone sta parlando con il numero 99 Milani un trascorso a Parma ancora il pallone che deve arrivare in campo, siamo sempre sul 3-0 ricordo qui sulle frequenze di Sport Parma e Sport Emilia sul canale 6-3-6 lancio di Manghi preso comunque in qualche modo da parte dei crociati che muovono palla poi però Farolini va al calcio alto nella tre quarti avversaria prende il pallone, il numero 12 Antonelli, avanza la formazione Aquilana nella sua metà campo, ancora un calcio dalla base da parte di Callori, lungo che va nei 22 non chiama il Mark Zucconi, va al calcio, vediamo se troverà la tusche il pallone resta in campo, lo prende Turner, anzi Wilson Wilson fa qualche metro, rompe il placcaggio, poi entra nella metà campo Ducale in posizione centrale, o meglio spostata verso la tribuna opposta a quella in cui vi parliamo ancora Callori, un pallone lento su Zaffiri poi ancora l'Aquila che gioca lì vicino al punto ancora Zaffiri che prova in zona 1, quindi comunque in gioco stretto ancora dell'Aquila che prova a guadagnare metri siamo sempre sui 22 però sono bravi i giocatori ducali a rallentare il pallone in modo regolare ed ora c'è un'altra punizione guadagnata dalla formazione dei crociati per un tenuto crociati fino a questo momento molto presenti sui punti hanno difeso bene la MOL nel loro territorio sono migliorati molto decisamente in queste fasi del gioco i crociati nel corso soprattutto della seconda parte di campionato ed ora Farolini avrà l'opportunità di andare in tusche nel metà campo avversario il pallone che esce guadagna siamo a metà strada tra la linea dei 10 e quella dei 22 vedremo ora che soluzioni adotteranno è una buona piattaforma, siamo abbastanza vicini ai 22 vedremo se riusciranno ad allargare il gioco Bordone aveva lamentato tra virgolette a fine partita del Capra che il gioco sviluppato alla mano dai crociati non è stato aperto anzi è bello questo incrocio di Zucconi con ancora Sciacca poi siamo un po' di metri fuori dai 22 ancora pallone fuori pallone su Enaur Enaur c'è superiorità Farolini Farolini placato entra nei 22 c'è il supporto dei propri compagni si può giocare attenzione però perché il pallone è perso e può liberare Callori con questo calcio che va a scavalcare i 10 metri ducali Zucconi osserva il piazzamento avanza sulla metà campo effetto a un up and under pallone che va a prendere Callori placato il pallone che esce c'è Falsa Perla ancora una fase di gioco con Paolucci pallone largo su Turner Turner placato sull'enne dei 10 metri perde il pallone in avanti ma c'era già un fischio in precedenza per il passaggio di Paolucci verso il proprio compagno in avanti fischia il pubblico aquilano da qua è difficile giudicare perché siamo in posizione non proprio in in linea retta ma dobbiamo confidare che l'assistente di Falzone abbia individuato la regolarità non è continuo a non essere d'accordo il pubblico aquilano punteggio sempre ricordo di 3 a 0 quando siamo al quasi al quarto d'ora del primo tempo piazzato di Violi al quarto fase di gioco c'è un break in quanto c'è un giocatore aquilano che deve essere sottoposto alle cure del massaggiatore gioco che riprenderà con una mischia a introduzione dei crociati intanto alberghini si va schierando molto largo qui sotto alla nostra tribuna la mischia dalla parte opposta siamo sempre a metà strada tra linea dei 10 e dei 22 e l'area dei 22 dell'Aquila c'è un reset qualche problema in prima linea a proposito di reset ricordiamo che cambierà qualcosa dalla prossima stagione per quanto riguarda la mischia ordinata comunque ancora Violi pronto all'inserimento dell'ovale ingaggiano i due pacchetti mischia statica e niente ancora un altro reset Falzone avrà qualcosa da dire ancora una volta le prime linee facendo che sono andati giù evidentemente non è schiene non proprio dritte quelle delle prime linee ora anche Violi parla con Falzone mentre si stanno scaldando si sta scaldando tutta la panchina dei crociati un paio anche per quanto riguarda l'Aquila fase ancora di stanca ecco qua partito l'ingaggio ma c'è una punizione questa volta in favore dell'Aquila vediamo dal gesto non si è legato il pilone in questo caso negrotto il pilone destro dei crociati non ha legato e dunque ci sarà una punizione in favore dell'Aquila e ancora Callori che andrà a giocare questa punizione in Tush pallone che esce sulle tribune la Tush avrà la rimessa in gioco nella tre quarti della formazione crociato ovviamente siamo poco oltre l'enia di 10 metri un descritto guadagno questo da parte del mediano di mischia Aquilano Robinson si allarga intanto decide lo schema si toglie Amenta dallo schieramento sono in 6 c'è qualcosa però ancora da chiarire ecco che si può riprendere il lancio vinto da Cialone poi pallone aperto Lorenzetti prova l'incrocio con falsa perla placato sulle linee di 10 metri Callori ancora ci prova Milani pallone a disposizione ancora Callori si prova ancora con Caffaro questa volta però perde un metro ancora brutta trasmissione questa di Callori il pallone però viene preso dalla formazione Aquilana che prova a giocare con Turner poi placcaggio di Ennaur avanzante su Di Massimo il pallone che ancora a disposizione ma l'Aquila ha perso metri siamo dai dentro 10 metri siamo tornati sulle linee di metà campo pallone che esce in avanti il pallone di Zaffiri e vediamo Falzone cosa indica mentre c'è Penne l'assistente che segnala qualche cosa all'arbitro vediamo che cosa sarà la decisione Mandelli dovrebbe essere comunque un avanti sì ecco no è una è una tush è una tush esatto l'avanti che esce come stava suggerendo appunto Filippo Frati e poi forse un arramino in avanti ma vediamo Enrico Manghi pallone lancio è storto sto dicendo forse un po' storto mi è anticipato il fischio di Falzone quindi si procederà con una mischia a introduzione dell'Aquila sono passati quasi 20 minuti una prima unità del del primo tempo il punteggio ancora fermo sul 3-0 Filippo due squadre che chiaramente oggi il rischio tra virgolette insomma si fa sentire perché una disattenzione può costare cara sì sta emergendo un po' di paura di giocare ma insomma è normale quando quando il risultato la porta in paglio è così importante da segnalare però veramente la la prova in difesa dei crociati stanno aggredendo l'avversario non facendolo ragionare penso dell'acqua e sciacca su tutti stanno portando avanti la difesa in maniera molto molto determinata e positiva quindi se continuano così con questa disciplina la vedo difficile per l'Aquila uscire da questa situazione la mischia deve ancora ci sono delle difficoltà ora Penne richiama ancora Falzone sono crollati i due pacchetti difficoltà ripeto a tenere ordinata appunto la mischia vediamo cosa l'assistente due internazionali Falzone e il suo assistente Penne parlano vediamo se ci sarà sarà segnalato un'irregolarità o comunque indicherà Penne dove nel frangente nella fattispecie è il problema Falzone va a parlare con i giocatori dell'Aquila sta indicando che probabilmente nel contatto anzi c'è una punizione una punizione in favore dei crociati sulla metà campo perché nella mischia ordinata c'è stato un contatto evidentemente una mano una manata un qualche cosa in viso ad un giocatore dei crociati dunque Davide Farolini va al calcio in tusche punizione giocata in tusche che verrà con gioco che verrà ripreso da parte di Enrico Manghi poco fuori i 22 dell'Aquila tusche con Sing dell'Acqua Mandelli Marazzi e Amenta tusche redotta quindi va davanti sfugge il pallone a Sing e quindi si riprenderanno provato la furba cosiddetta c'è il gioco sul primo uomo dell'allineamento furba che in un paio di occasioni è crociata e riuscita una anche nella partita dell'ultima disputata proprio contro l'Aquila con Amenta che era avanzato nei 22 in questo momento non c'è possibilità vediamo dunque si riprenderà con una mischia in favore con introduzione da parte della attenzione perché c'è una punizione per introduzione storta gioca prova a giocare velocemente la formazione ducale ma Falzone dice che non è possibile e dunque vediamo come si gioca Negrotto va lui il tocco poi parte placato il gioco ancora aperto dell'acqua siamo su la linea dei 22 della formazione Aquilana il pallone aperto Zucconi Kessel Kessel placato poi dà il sostegno di Farolini siamo sempre sui 22 pallone in mano alla formazione crociata attenzione però il pallone è rubato Calori può liberare e va a rincorrere il pallone Zucconi sale la rete Aquilana c'è spazio Zucconi va al calcio per se stesso va anche al Berghini non riesce a raccogliere Zucconi il pallone Aquilano però è placato ancora Calori dalla base il calcio lungo usato molto il piede il calcio attenzione che Farolini non riesce a raccogliere se ne va in tusche esattamente sui 5 metri praticamente della formazione crociata molto uso del piede l'Aquila che prova a giocare a guadagnare territorio e a giocare nella metà campo il più lontano possibile quindi nella metà campo crociata si fa probabilmente bene anche perché ha il vento al vento favore devono resistere i crociati stare attaccati il punteggio il più possibile perché poi nel secondo tempo saranno loro nella stessa situazione quindi avranno possibilità di sfruttare il vento è evidente che l'Aquila non vuole muovere la palla è evidente che non vuole giocarla probabilmente spera di sfruttare qualche errore dei crociati nella metà campo per fare punti e siamo al venticinquesimo del primo tempo sempre 3 a 0 per i crociati che hanno questa tuscia importante vinta no persa attenzione Turner siamo a 4 metri l'Aquila pericolosa Mandelli non è riuscito a raccogliere il pallone è andato a Turner ci prova l'Aquila lì vicino Calore il pallone è aperto Milani prova placato devono difendersi attenzione i giocatori Caffaro ci prova il pallone per falsa perla poi un brutta trasmissione il pallone però è perso all'indietro ma c'è un vantaggio probabilmente per un fuorigioco forse da parte della linea crociata ancora Robinson siamo sempre a 5-6 metri ci prova Rattarner cacciato indietro si torna sul vantaggio esatto c'era un fuorigioco della linea crociata e a questo punto c'è l'opportunità da parte dell'Aquila di muovere il punteggio presumibilmente vediamo se chiederà i pali direi che è inevitabile la posizione è altamente favorevole Calori indica all'arbitro che si va per i pali ma sarà Paolucci il calciatore principe da parte dell'Aquila quando siamo al minuto 26 l'Aquila dunque ha l'opportunità di andare al pareggio è la prima occasione dalla piazzolla da parte di Paolucci che a Noceto fu autore di un 3-3 e quindi massima precisione Paolucci questo è praticamente un rigore siamo all'interno dei 22 saranno 12 metri e c'entra i pali senza difficoltà dunque 3-3 tra l'Aquila e Crociati peccato perché l'Aquila ha mosso il punteggio su una diciamo un errore ma comunque insomma una tush persa nei 22 sì avevamo appena finito di dire che l'Aquila sta portando avanti questo tipo di gioco che più che giocare per vincere gioca sperando nell'errore dei Crociati per poi fare punti purtroppo è successo questo hanno cercato un lancio in fondo in tusce in una posizione di campo dove magari un qualcosa di più semplice era più indicato però insomma 3-3 con con tanto tempo ancora da giocare c'è un cambio intanto nella prima linea dei Crociati esce Sing e al suo posto entra Simone Pietro Ferrari Amenta sul calcio di rinvio Amenta penetra nei 22 ancora Amenta 5 metri Crociati subito pericolosi pallone che esce giocato su Zucconi poi ancora crociati nel punto c'è un vantaggio c'è un vantaggio attenzione l'ennesimo fallo da parte dell'Aquila sul calcio di rinvio da parte della formazione dei Crociati Amenta raccolto era da solo c'è stato un buco nella difesa Aquilana è penetrato sino nei 22 e poi ha guadagnato una punizione sul punto per un fallo degli Aquilani appunto in a terra e dunque si va per i pali subito per i Crociati non siamo ancora giunti alla mezz'ora siamo al ventottesimo circa e Marcello Violi da posizione centrale all'interno dei 22 può immediatamente riportare i Crociati in vantaggio segnaliamo dunque il primo cambio che è avvenuto nella formazione dei Crociati dunque Ferrari pilone della Nazionale Under 20 al posto di Shing Violi ha posizionato l'ovale sulla piazzola sta osservando la breve rincorsa agevole senza problemi questo ulteriore rigore dopo quello di Paolucci quello di Violi dunque Crociati 6 l'Aquila 3 29 del primo tempo e dunque gioco che fino a questo momento partita fino a questo momento che si decide sui piazzati non è la prima volta che insomma partite che siano finali semifinali vengono giocati su punteggi chiusi e soprattutto con con l'uso del piede il calcio di rinvio da parte di Lorenzetti preso da Violi anzi no era Caritiello ancora Violi per Zucconi Amenta prova a sfondare Vatter poi pallone vece velocemente ancora Kessel poi Farolini e Naur che rompe un placcaggio poi perde il pallone peccato sul placcaggio superando la 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 linea di di tusce dunque ci sarà una rimessa in gioco con lancio per l'Aquila crociati che comunque provano ad aprire il pallone anche nella propria metà campo si cerca di aprire al massimo la difesa in questo momento non è riuscita ad andare via lungo l'out e Naur il lancio di Subrizi preso da Cialone poi ancora l'Aquila che prova con la Molle è stata per lunghi tratti del campionato un tallone d'Achille nella difesa da parte dei crociati l'Aquila ancora che manovra però quest'oggi ha difficoltà l'Aquila a fare metri pallone ancora sulla metà campo Subrizi per Turner guadagna un paio di metri pallone a disposizione a tarda ad arrivare il mediano non c'è quindi si incarica Cialone di portare avanti ancora ora Callori dal lato chiuso l'Aquila che in questo momento guadagna metri giocando vicino col gioco stretto però guadagna anche una punizione per un'entrata laterale nel raggruppamento e quindi altra opportunità vediamo si va ancora per i pali siamo al minuto 32 del primo tempo e l'Aquila ancora con Paolucci ha l'opportunità di pareggiare intanto Falzone Mandelli chiede spiegazioni all'arbitro Falzone sull'interpretazione del fallo crociati devono stare attenti alla disciplina chiaramente nella loro metà campo finora hanno difeso molto bene è il secondo fallo prima un fuorigioco della linea ora un ingresso laterale in mischia nel raggruppamento a terra che consente all'Aquila di provare la via dei pali Paolucci sta per sistemare il palone sulla piazzola siamo intorno ai 35 metri posizione abbastanza defilata questa per Paolucci vedremo se l'ala Aquilana riuscirà nel suo intento è calato il silenzio ovviamente in al Cersoni respiro profondo da parte di Paolucci parte la sua rincorsa la parabola che non c'entra i pali il pallone è rimasto troppo chiuso troppo chiusa la parabola di Paolucci dunque il punteggio rimane sul 6 a 3 in favore dei crociati quando ci stiamo avvicinando al 35esimo del primo tempo manca il pallone ecco ne arriva uno nuovo in quanto è finito praticamente negli spogliatoi quello calciato da Paolucci e dunque si riprenderà con Farolini al piede per la rimessa in gioco parte il suo calcio di rimbalzo c'è Calori sui 10 metri sale la rete sono molto indietro hanno atteso molto per rientrare i giocatori dell'Aquila attenzione pallone che viene guadagnato dai crociati il calcio da parte di Zucconi a trovare la profondità coperta da poi c'è un brutto calcio d'altronde si ha il piede all'up and under va Turner non ci si può aspettare un calcio di qualità Turner è un numero 8 pallone però che è rimasto nel possesso dell'Aquila il calciato da Robinson pallone che esce in zona morta in oltre l'area di meta e dunque buon per i crociati che riprenderanno dal punto in cui è partito il calcio vale a dire a poco entro la metà campo dell'Aquila c'è il dottor Marassi nonché padre del Vittorio che gioca che sta soccorrendo ci sono alcuni giocatori crociati che hanno bisogno di cure uno di questi è Sciacca credo poi c'è anche Negrotto che ha qualche problema di crampi no non è Sciacca Sciacca è in piedi è Violi si rialza prontamente nessun problema e dunque mischia il gioco che fatica a decollare è un'Aquila però che sta dimostrando anche una certa forse anche data dall'età di alcuni suoi elementi una certa lentezza sia nella trasmissione del pallone che complessivamente di corsa rispetto ai crociati si sembra sembra quasi che cerchino di risparmiare energie per durare tutti gli 80 minuti e fanno bene i crociati quindi a muovere le palle a cercare di alzare il ritmo da notare che siamo al 35esimo e non ho notato non abbiamo non sono da segnalare mai più di due passaggi nella stessa fase dell'Aquila quindi insomma le sensazioni che abbiamo avuto inizio partita sono quelle l'Aquila non ha intenzione di giocare la palla vuole stare chiusa nel punteggio e affidarsi al piede di Paolucci piede di Paolucci che ora va a trovare una tush guadagna molto terreno ha calciato da dentro i suoi 22 e ha trovato una tush che però sarà a lancio crociato una tush sui 10 metri in territorio ducale si stiamo avvicinando alle fasi finali di questo primo tempo con i crociati sempre in vantaggio per 6 a 3 Manghi pronto al lancio in sicurezza davanti su Amenta poi pallone fuori che è solenne Naur la combinazione Naur viene placcato però non c'è avanzamento siamo sì nei 10 metri Zucconi allora prova con il piede trova però ben piazzato Paolucci il quale avanza finta la penander avanza lui poi il pallone dal lato chiuso su Turner Turner fa metri rompe un placcaggio ne rompe un altro si entra nella tre quarti ducale ancora l'Aquila in possesso di palla e guadagna un'altra punizione guadagna un'altra punizione perché in questo caso il placatore non rotola c'erano Amenta e dell'acqua sul punto e dunque altra possibilità da parte di Paolucci di andare per i pali vediamo o no forse va in tusce no ecco direi Calori era rivolto verso la tribuna opposta invece vengono indicati i pali siamo al minuto 37 praticamente quasi 36-37 del primo tempo Paolucci che finora ha un successo e un fallimento mentre Violi al momento è a 2 su 2 siamo a metà strada tra la linea dei 22 e quella dei 10 metri la posizione non è troppo decentrata Paolucci con il braccio teso a segnalare la direzione poi arretra per prendere fiato e procedere alla rincorsa parte ora la sua parabola attenzione perché è sbagliata anche questa è fuori anche questa ha chiuso ancora una volta troppo il calcio Paolucci questa non era questa non era una posizione troppo difficile questa parte di Paolucci che ripeto è stato perfetto a Noceto ora è al secondo fallito su tre Farolini intanto procede al calcio di rinvio chiama la palla Robinson che avanza sulla metà campo va ad incrociare pesantemente su Manghi poi il pallone ancora manovrato dagli avanti della formazione aquilana attenzione rallentano molto bene il pallone in modo regolare i crociati l'Aquile non fa avanzamento prova ancora col gioco stretto insiste su questa teoria la formazione aquilana ora il pallone ancora lì vicino ci prova Milani poi pallone fuori ora con Lorenzetti Lorenzetti per Di Massimo il pallone messo a disposizione Callori fuori per Turner che finta poi va lui supera la metà campo ancora su Cialone e l'arbitro Falzone fischia ancora una una punizione perché il placatore non rotola via lo ha fatto forse in ritardo fatto sta che ora vedremo la decisione da parte di Callori che in questo caso va alla punizione intusse perché la distanza è considerevole siamo poco entro la metà campo e dunque al 38esimo quasi 39 del primo tempo l'Aquila avrà questa una buona base di lancio del gioco nei 22 siamo a un 18-20 metri dalla dalla chiedo scusa dalla linea di meta dei crociati Subrizi pronto al lancio schieramenti completi ecco Subrizi lancio a metà schieramento preso da Di Cicco poi il pallone ancora prova la molla avanzante l'Aquila avanza ma si ferma poi il pallone che non esce provano ancora fino a questo momento difesa bene ancora il pallone che non esce va a terra deve liberare ora l'Aquila Callori prova comunque non distante dal punto non va questo raccoglie e vai poi il pallone che ci prova con l'alesternimento attenzione di Robinson lanciato da Lorenzetti siamo sempre nei 22 l'Aquila muove palla il calcetto di Lorenzetti prende però Violi calcia e libera e dunque va a trovare una buona tuscia fuori dai 22 si salva bene dunque l'Aquila che ha provato a muovere palla ma lo ha fatto molto lentamente con passaggi a rallentatore e dunque ha fatto buona guardia la difesa crociata io ho detto che esce dai 22 comunque siamo proprio sulla linea dei 22 importante ora mantenere il possesso su questo lancio e ancora esce dalla linea di tuscia Marazzi va fuori anche Schiac è fuori pallone che l'Aquila mantiene prova l'ennesima Moll che fa un paio di metri è nei 22 l'Aquila ancora l'opportunità avanza avanza pallone che va a terra attenzione questa volta c'è un vantaggio c'è un vantaggio i crociati hanno fatto crollare volontariamente la Moll Calori non riesce a trovare il sostegno e quindi il riciclo attenzione Falzone richiama il capitano speriamo non ci siano sanzioni diverse dal richiamo al momento forse c'è solo il richiamo verbale da parte di Falzone così è dunque punizione quando il tempo praticamente è scaduto nel primo tempo sempre 6 a 3 ma Paolucci ha in questo momento un'occasione abbastanza importante vediamo cosa fa decide di giocare la Tusche decidono di giocare la Tusche ed è clamoroso cos'è era già fuori forse sì era già fuori da qua non si è visto bene sembrava che ha fatto un calcio ha tirato praticamente una mina nella milza del giocatore piazzato sulla linea di Tusche comunque l'Aquila gioca e la Tusche è vinta attenzione Turner Turner 4 metri delle linee di meta placcaggio attenzione con certi termini caro Pippo ci va ci va ancora l'Aquila che in mezzo ai pali 4-5 metri sempre dalla linea di meta pallone molto lento Calori prova a giocare sempre lì vicino pallone fuori per Turner Turner prova placato molto bene da Dell'Acqua attenzione perché sull'Abbrivio siamo a un passo dalla linea di meta attenzione pallone che non esce l'Aquila ci prova ancora lì vicino attenzione raccoglie vai assistito entrano e c'è la meta c'è la meta dell'Aquila ha segnato vediamo chi è difficile individuarlo forse forse Cialone forse Cialone forse Caffaro e purtroppo dobbiamo segnalare dunque la meta da parte della formazione aquilana forza di spingere provare lì vicino col gioco stretto l'Aquila ha trovato la soluzione vincente Milani dicono che è di Milani la meta e dunque qua il minuto è il 43 senza time off ovviamente comunque 43esimo dobbiamo segnalare la segnatura da parte dell'Aquila in questo momento il punteggio è crociati 6 l'Aquila 8 e ha avuto ragione dunque la formazione aquilana non piazzare seppur la posizione era ampiamente favorevole ma di cercare il bersaglio grosso vi è riuscita ed ora Paolucci proverà a trasformare poco fuori i 22 nella linea dei 15 metri di Tusse parte la sua traiettoria e per l'ennesima volta è chiusa non c'è la trasformazione si chiude qua il primo tempo e l'Aquila dunque chiude il primo tempo in vantaggio per 8 a 6 ha avuto ragione perché anziché piazzare era fattibile però evidentemente ha visto che Paolucci non è in giornata ha sbagliato anche la trasformazione ha provato il bersaglio grosso lo ha trovato giocando stretto giocando stretto alla fine è riuscito lì vicino ad andare dentro sì molte volte in queste situazioni ci si affida anche alle sensazioni del capitano le sensazioni soprattutto degli avanti vedevano che in mall le rallying mall stavano funzionando piuttosto bene hanno provato ad andare dentro e come hai detto tu hanno avuto ragione il punteggio comunque è 8 a 6 e ora avrà un secondo tempo da giocare a furore di vento i corciati dovranno essere bravi come ha fatto l'Aquila probabilmente a sfruttare il piede a usare il piede per giocare poi i paloni nella metà campo dell'Aquila con questo evento anche da 50 metri insomma il pallone può essere piazzato tra i pali quindi insomma è tutto da giocare complimenti a tutte e due squadre comunque ecco la formazione educale i corciati hanno hanno provato a muovere chiaramente più il pallone gioco molto stretto quello da parte dell'Aquila gioco hanno cercato di muovere di più il pallone anche con l'acciato facendo uscire velocemente il pallone ai ruppamenti i violi manca fino a questo momento proprio il cercare magari di disassare la difesa con un cambio di fronte non è facile adesso lo stiamo dicendo qua chiaramente però è quello che chiedeva Bordone dopo la partita con l'Aquila nel secondo tempo chiaramente si dovrà rischiare qualcosina in più si ripeto dipendesse da me non rischierei più di tanto perché il punteggio comunque è attaccato e ripeto cercherà di sfruttare più che altro quello che è il vento favore l'Aquila ora utilizzerà penso meno il piede perché questo vento comunque è fastidioso mi è piaciuta la voglia di giocare dai crociati è mancato però quello che probabilmente è mancato anche un po' durante tutto l'anno un giocatore capace di rompere la linea un giocatore capace di creare magari il break esatto e poi dare continuità diretta al gioco comunque sul piano del gioco bene bene direi sì qualche break era arrivato con Naur con Kessel nella partita l'ultima quella con l'Aquila qualche volta è successo anche nelle tre partite vittoriose con le fiamme oro vediamo speriamo che nel secondo tempo è stata una bella incursione di Amenta sul calcio di rinvio vediamo è finito il primo tempo ripeto crociati 8 l'Aquila 6 ai due piazzati di Violi hanno risporto un piazzato di Paolucci e La Meta di Milano proprio in chiusura di tempo ora andiamo con una breve pausa pubblicitaria e un breve break musicale poi rientriamo per il secondo tempo Autoscuola Volturno Patenti di tutte le categorie corsi CQC corsi recupero punti rinnovo patenti patentino per ciclomotori patenti nautiche a motore entro le 12 miglia due sedie a Parma via Nullo 2 e piazzale caduti del lavoro 3 www.autoscuolavolturno.it 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti